Benvenuti a Tendenze, parliamo di ricette, naturalmente di Natale, andiamo in Piemonte tra paesini e città, piatti tipici e nuove idee. Sentiamo Gianfranco Bianco. Nella vigilia di Natale sono i portici di Torino, là dove via Po sfoce in piazza Vittorio Veneto, pasticceria Sabauda o Parigina, le nuvole. Una ricca pasta di pandoro e avvolta una crema soffice al burro, almeno almeno 150 grammi a dose a persona. Grazie.